Aloe Plus Cani e Gatti Web TV Dottore, ci può parlare del caso di Luna, la cagnolina con profonde ferite da morso? Allora, Luna era una cagnolina che viveva in un rifugio gestito da volontari e commiveva con altri cani dai quali fu aggredita. Quando arrivò qui aveva una ferita molto ampia da morso. Dopo aver rimosso quel tessuto necrotico che si era formato, abbiamo visto che la regione era troppo ampia da suturare chirurgicamente e quindi abbiamo deciso di intervenire attraverso dei prodotti topici soprattutto con l'utilizzo di creme, spray che favoriscono la ricrescita cellulare. Tra questi spray abbiamo utilizzato lo spray dermatologico Aloe Plus che ci ha aiutato moltissimo nella terapia perché da subito abbiamo visto che ha migliorato la vascularizzazione cellulare, la rigenerazione e pian piano la ferita quindi ha iniziato a richiudersi anche se ci è avuto molto tempo perché siamo stati quasi un mese e mezzo ogni giorno a applicare questo prodotto sulla ferita per favorire appunto la ricrescita. Lo spray è stato molto utile e quindi siamo veramente soddisfatti del prodotto che ci ha aiutato in questa terapia perché altrimenti non sapevamo proprio come venirne pure diciamo. Benissimo, grazie mille! Grazie a voi!